Ma no, Ste, ma che dici? Ma è fantascienza sta roba qui, ma figurati se in Italia! Già. E ormai da un paio d'anni che parlo dell'identità digitale. Penso il primo video che ho fatto riguardo CBDC, quindi valute centralizzate digitali, quindi le valute delle banche centrali per intenderci, e l'identità digitale, penso di aver fatto il primo video tre anni fa, più o meno, grosso modo. Beh, ad oggi le cose stanno un po' cambiando. Soprattutto con gli ultimi video che ho fatto sull'identità digitale durante la pandemia, quando dicevo guardate che questo Green Pass, perché spingono così tanto con sto Green Pass in Italia, è solo una questione di abituare le persone a quello che verrà dopo. Perché questo Green Pass servirà da esperimento pilota per andare poi a portare invece il pass europeo, cioè l'identità digitale. E non è che me lo sono inventato, si sentiva parlare di cose simili al World Economic Forum, si vedevano un po' di cose, diciamo, in giro, a spezzoni, qua e là, qualche piccola informazione, qualche piccolo là che davano politici o personaggi in vista nell'economia. Quindi bastava solo rimanere attenti e ricettivi, ma realmente ricettivi, non farsi passare le informazioni davanti la testa così in modo passivo, ma cercare di comprendere, cercare di analizzare i passi, perché poi ragazzi non è che loro siano dei maghi a nascondere le cose, cioè è tutto in vista. Noi dobbiamo solo essere in grado di andare a unire i puntini. Ecco, in questo caso quello che dissi allora era guardate che il Green Pass si trasformerà nell'identità digitale, un wallet al cui interno ci saranno tutte le nostre documentazioni, stati di salute, patente, carta d'identità, tutto quello che serve all'interno di un'applicazione, di un'identità digitale, e in futuro arriverà anche il denaro, le valute lessibili, sì, le valute programmabili, quelle che se tu non ti comporti bene ti blocco il conto, quella roba lì. Ok, le risposte ovviamente sono state, c'è chi è stato un sostenitore, chi c'è, sì, no, è vero, è vero, effettivamente, dati alla mano è così. C'è chi invece dall'altra parte, molti, purtroppo la maggior parte, no, ma che dici, sì, magari uscirà un pass europeo, magari uscirà questo pass identità digitale, che uno decide se farsi, mettersi tutto lì, comodo, così non devi più portare la patente di plastica nel portafoglio, così non devi più portarti dietro la carta d'identità di plastica nel portafoglio, così tutti i tuoi titoli conseguiti all'università, dove vuoi, in master, tu tutto là dentro, tutto dentro un'app su questa roba qui. Basta, fine. Cosa c'entrano i pagamenti? Beh, una notizia, un articolo uscito su Italia Oggi di recente, ma anche su altre testate giornalistiche, parla invece di un'altra cosa. Parla dell'identità digitale, il pass europeo che sta per essere lanciato e che permetterà anche gli acquisti. Allora, di cosa stiamo parlando? Voglio renderti un attimo partecipe di quello che è la mia analisi, voglio un attimo farti comprendere quali sono i rischi e a che cosa stiamo andando incontro. Perché forse non è chiaro, perché, eh, ma tu stai magari dai peso alle cose. Non è che do peso, è che dati in mano, se comprendi determinate cose, allora comprendi che cosa sta succedendo. In America stanno facendo una resistenza ad oltranza per evitare questa roba qui. Alcuni paesi dell'Europa, soprattutto dell'est e nord Europa, stanno manifestando ogni giorno. In Italia non sappiamo neanche che cos'è. Quindi è giusto, è doveroso comprendere a che cosa stiamo andando incontro. Facciamo un passo indietro. Partiamo da cose più simili, che conosci meglio. Hai mai fatto l'accesso a Facebook? Per esempio da computer, per esempio da cellulare. Quando accedi, cosa ti compare scritto? Ti compare, se magari ti sei slogato, accedi come il tuo nome. Oppure quando vai su Amazon, clicchi login, registrati, accedi, e ti dice, vuoi registrarti con Google, con i tuoi dati salvati di Google, o di Facebook, o di altre robe? Praticamente noi, quando andiamo ad interagire, sia con i social media, sia con le piattaforme di acquisto, come per esempio Amazon, abbiamo questa possibilità di utilizzare la mail di Google, di utilizzare il nostro account Google per accedere al servizio. Questo con praticamente tutti i social network e gli e-commerce, diciamo gli store grossi, come può essere Etsy, come può essere Amazon, eBay, e così via. Quindi c'è già una sorta di schedatura digitale, di identità digitale che ci accomuna, collegata in questo caso a Google. E noi possiamo utilizzarla per accedere ai servizi. E lì ovviamente i nostri dati sappiamo che fine fanno, dove girano, no? Sempre tra i soliti. Ok. Bene, il pass europeo dovrà essere accettato da norma all'interno di queste piattaforme. Quindi se tu vuoi accedere ad Amazon, accederai con la tua identità digitale. Se tu vuoi accedere a Google, lo farei con la tua identità digitale. Se tu vuoi accedere a Instagram, Facebook, qualsiasi social, lo farai con la tua identità digitale. Quando accedi al tuo browser, lo farai indovina con la tua identità digitale. Quindi in pratica, tutto quello che sarà il nostro movimento online, nel mondo digitale, sarà tracciato. Sarà tracciato e collegato a che cosa? Alla nostra identità digitale. Quindi vanno a creare un nostro avatar che si muove nel mondo digitale e che raccoglie informazioni. Quindi lasciamo perdere la privacy perché non mi ci avventuro neanche all'interno della privacy. Perché puoi capire che privacy non ce n'è più. Perché una volta collegato quel portafoglio, quell'identità, ai movimenti che fai, puoi capire che sanno benissimo dove vai, cosa guardi, cosa acquisti, quando? Tutti quelle che sono le tue abitudini sui social, le tue abitudini online, ciò che commenti, ciò che scrivi, ciò che dici, è, colpo di grazia, la valuta digitale. Quindi, per assurdo, loro sanno che cosa compri, sanno che cosa fai, ti danno il denaro per farlo, la Sibi di Sì, non avrai più bisogno di tutte queste cose qui, queste valute digitali che nascono le BTC e tutto, non ti serve questa roba qui, te la diamo noi, ti diamo noi una valuta digitale, programmabile, comoda, non dovrai più avere i soldi in tasca, non ti possono derubare, non dovrai neanche portare più il portafoglio perché sarà tutto all'interno di un'app, fantastico, comodissimo, guacca, e non c'è niente di meglio. Finalmente, quel cavolo di malloppone in tasca, non serve più, ho i portafogli delle donne giganti dentro le borse, più grandi le borse, non serve più, ti basta il cellulare, è tutto qui, che visione idilliaca, ma ti mettiamo dentro le nostre Sibi di Sì, queste Sibi di Sì fantastiche, bellissime, che potrai usare, spendere come vuoi, e che possono essere programmate. Cosa vuol dire programmare una valuta? Vuol dire che se tu domani, per esempio, la butto lì, non ti vaccini, magari ti posso bloccare l'accesso ad alcuni siti, ad alcuni servizi, magari ti blocco l'accesso all'utilizzo di aerei, treni, magari ti blocco l'accesso alla scuola, magari ti blocco l'accesso ad acquistare determinati beni, magari ti blocco l'accesso ad investire, se non dove ti dico io. Non è fantascienza, ragazzi, questa qui non è fantascienza, stiamo parlando di un sistema di controllo capillare non solo delle persone, ma anche degli spostamenti che fanno, e degli spostamenti che fanno in denaro, con la capacità di programmare quel denaro e bloccarti, perché avverrà tutto tramite app, e io ti posso bloccare tramite app i dindi, i soldini, gli sghei, te li posso bloccare quando mi pare. Non fai quello che ti dico? Tac! Bloccato! Non compri nulla. Stavo andando incontro a questa roba qui. Ma ne parleremo, ne parleremo sicuramente negli anni a venire. Adesso, lo so, mi rendo conto che per l'italiano medio questo potrebbe essere fantascienza. Per la gente del sud, e parlo da gente del sud, che quella, secondo me, è la vera Italia, che ancora rimangono arretrati nel male, ma che comunque è un bene in queste fasi, in questo caso, che stanno ancora attaccati al contante, al cash, mi paghi cash, sono ancora lì e meno male che qualcuno ancora si salva. Tu pensi che anche il vecchietto, anche le persone così, quelle un pochino più in là con l'età, non si adegueranno? Tu pensi che se io ho così, per caso, ti dessi una sorta di reddito di cittadinanza? Suona? Pensi che non va la nonnetta a chiederlo? Pensi che la nonnetta non si compra un telefono con i nipoti e impara a usarlo per acquistare perché ti do 500 euro, perché ti do 1000 euro digitali? questo è. E ci vorrà tempo prima che l'adozione in questa roba qui, 2030, l'agenda 2030, tutte ste robe qui, ragazzi, è già qui. È già qui. È inutile che stiamo lì a rimandare, ma tanto ci vorrà tempo perché in Italia sono quasi tutti anziani e fanno fatica. No, non fanno fatica, si adattano, si adattano, tutti si adattano, soprattutto nel momento in cui ti regalo qualcosa. Tu credi veramente che la nonna se gli dici nonna, guarda, per scaricarti, comprarti sto cellulare e scaricarti un'applicazione sopra ti danno 1000 euro, lo vuoi fare? La nonna ti dice sì, perché no? Fine, fatto, tac. Poi devi imparare a usarlo. Certamente, ci vorrà un pochino di tempo, sicuramente, ma quella è la direzione. Vogliamo aprire gli occhi o stare ancora lì col prosciutto in faccia e dire no, qua in Italia non succederanno mai queste cose. No, no, figurati, figurati. Tra l'altro, proprio in Italia, uno dei posti dove faranno i vari test ovviamente in Europa, si parla dello speed. No, giusto per darti due dati, durante la pandemia, no? Un evento a caso, un evento a caso, che è come se non fosse propedeutico a qualcosa e lo dico da tempo, ma vabbè, sorvogliamo, ci sono i miei vecchi video, vai a guardarli, torni oggi, leggi e dici o cacchio, forse aveva ragione. A parte quello, durante la pandemia è schizzato uno alle stelle il numero di pagamenti con carta per il famoso cashback di Stato e tutti i vari bonus, premi che davano, i monopattini, questa roba qui ha portato, vedi, con delle cagate, perché sono cagate, ha portato ad aumentare l'adozione della carta di credito di bei numeri, vai a cercare su Google e rimarrà stupito. D'altra parte, è aumentato drasticamente la creazione degli speed, perché per accedere a questi servizi qua, a questi bonus, ti serviva lo speed, cioè l'identità digitale. Uh, ti regalo un monopattino e tu mi regali la tua identità. Vuoi accedere ai servizi? Tac, ricatto. se lo vedi a sé l'evento, non c'è niente di male magari nello speed in sé, in determinate cose in sé, per modo di dire. Il problema è che tu devi ricostruire tutto, devi vedere tutto, devi staccarti e guardare con un occhio un po' più grande e capirai, capirai dove il loro occhio guarda, in che direzione, che cosa c'è dall'altra parte e come tutti i puntini vanno ad unirsi. Perché poi è quello ragazzi, è quello. Abbiamo una valuta digitale, controllabile, programmabile, che decidiamo a chi darla, a chi distribuirla, in quale quantità e se non fa quello che dico, la blocchiamo, ci serve un'infrastruttura, un wallet. Voilà, abbiamo le nostre app, le app qua per scansionare i green pass, per esempio. E poi cosa ci serve? l'identità digitale, lo speed connesso all'app. Tre elementi uniti, scacco matto. Ora, tu facci quello che vuoi con queste informazioni, mettitele sotto al cuscino, riflettici, preparati, studia, insultami, fai quello che ti pare, però per me era importante lasciare testimonianza, video, qua, su YouTube, di quello che sta succedendo, di quello che succederà, perché fino adesso le mie previsioni passate si stanno rivelando. Tutti gli step che avevo previsto sono andati esattamente come li avevo previsti. Ora, quest'ultimo step che ho previsto qui andrà veramente così? Lo vedremo tra qualche anno o magari ancora prima. Ciao a tutti.